Sono riusciti a terminare nei tempi stabiliti nonostante capricci meteo e il loro graffito sul tema della legalità, sotto gli occhi di decine di curiosi giunti anche dal vicino Molise, i tre writers di caratura internazionale Max Arsek e Derase che hanno dipinto il muro della pista di atletica a Lanciano. L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto Diritti e Rovesci promosso dall'assessorato comunale alle politiche sociali per sensibilizzare i cittadini al tema della legalità. A portare a Lanciano i due writers bulgari Antonello Piccinino, in arte Max, dell'associazione Friends. Noi molto spesso lavoriamo insieme, specie all'estero, e allora via internet ci siamo messi d'accordo sull'idea generale e ognuno poi ha sviluppato il suo pezzettino di muro, poi una volta sul posto abbiamo connesso tutti insieme. Quindi il disegno parla di legalità, c'è un personaggio che cerca di scappare dal male per arrivare al bene e abbiamo rappresentato il male e il bene con la notte e il giorno, in questo caso la luna e il sole e c'è il personaggio che cerca di arrivare al sole per uscire dalla luce, l'ho scoperto. Senti però questo sole ha dei dentoni, ci sono queste frecce, ci sono questi occhi, spiegaci un po' meglio questo sole così. Sì, abbiamo cercato di rendere il disegno molto fumettoso, illustrativo e anche scherzoso, quindi anche per farlo piacere più ai ragazzi più piccoli che passavano e venivano a vedere. Ci sono stati tanti ragazzi che sono venuti a curiosare in questi giorni? Sì, moltissimi, infatti abbiamo messo un po' in difficoltà la pista perché non c'erano più parcheggi dove mettere le macchine. Quindi è stato un bel successo, la curiosità è stata tanta. Sì, sì, sono state molte persone che si sono interessate ai disegni, molti curiosi, i ragazzini venivano a vedere. Spero che comunque abbiamo lasciato un bel messaggio alla città. Per Mark, in arte erase, e Gelo, in arte arse, è stata la prima volta a Lanciano. I due writers espongono le loro opere insieme a Max in tutto il mondo. Abbiamo iniziato all'età di 14 anni, racconta erase, e non abbiamo mai smesso né frequentato una scuola o un'accademia. Oggi lavoriamo tra Sofia e Berlino, anche per diversi brand commerciali, ma realizzare graffiti ci fa sentire sicuramente più liberi. Preferiamo esprimerci attraverso le immagini e non le parole, ha aggiunto Arsek, e lo stile che preferiamo. Per noi, ancora detto, è la prima volta a Lanciano e la città è davvero bella e tranquilla, lontana dai problemi di sicurezza e legalità della Bulgaria. Grazie. Grazie.